...con giocatori rapidi davanti che sicuramente cercheranno di fare la partita, di giocare parla a terra, ma io non voglio una squadra passiva, voglio una squadra sempre aggressiva che cerchi ugualmente di fare la partita, sapendo che davanti abbiamo una squadra sicuramente superiore a livello di tasso tecnico rispetto a noi. Il Sassuolo è in crescita, io dico sempre che dobbiamo ancora lavorare tanto, ma non voglio essere ripetitivo tanto per dirlo, perché rivedendo anche le partite trovo delle cose positive, ma delle cose dove dobbiamo migliorare tantissimo, ad esempio con il Bologna abbiamo concesso due o tre contropiedi sbagliando palla, ma non tanto per l'errore, perché ci sta di sbagliare un pallone quando si cerca di giocare, nella logica, e la fase preventiva in cui dobbiamo essere bravi poi a non rischiare niente quando la palla passa agli avversari, in questo caso siamo ancora non bravissimi.